Ciao ragazze, in moltissime me l'avete chiesto, quindi vi accontento. Quest'estate proporrò dei video per la ginnastica in gravidanza. Vedrete anche me col pancione perché molti lo sanno, mi sono allenata per tutti i nove mesi della mia gravidanza. La gravidanza non è uno stato patologico, quindi se si sta bene non c'è nessunissima controindicazione ad allenarsi in gravidanza. Le uniche precauzioni sono idratarsi, quindi bere spessissimo, non faticare troppo, la frequenza cardiaca non deve andare al di sopra del 75-80% e in caso sentiate dei dolori o non vi sentate particolarmente bene il giorno di allenamento, così sospenderlo. Dovete avere un po' di buon senso e vedrete che l'allenamento in gravidanza farà bene a voi e al vostro bambino. Ricordatevi che durante la gravidanza non ci si allena per migliorare le performance, ma semplicemente per rimanere in forma ed arrivare al momento del parto nel pieno delle nostre energie e delle nostre forze. Ultimo accorgimento, prima di intraprendersi qualsiasi attività chiedete comunque il benestare del vostro ginecologo. Detto questo, non mi resta che augurarvi un buon allenamento e una buonissima gravidanza. Ciao ciao!